Buongiorno, tre sono gli argomenti che spulciando la cronaca di questi giorni ho scelto per parlarne con voi, sono tre argomenti diversi tra di loro ma apparentabili in un certo senso, due sono un pochino più leggeri quindi potranno fare chiacchierare, il terzo può far discutere ma lo trattiamo per ultimo. Il primo di questi argomenti parte da una domanda, la domanda è secondo voi ha dato più fastidio agli Agnelli l'episodio del calciatore Krasic nella partita Bologna-Juventus oppure l'intervista a Marchionne di Fazio in televisione su Rai 3? Ecco, scegliete voi. Ora, sono due fatti che hanno innervosito indubbiamente la Fiat che come sapete non si mette in discussione molto volentieri perché ha un suo sussiego, una sua idea della dignità per cui non polemizza facilmente né volentieri, lo posso capire per carità. Nel caso poi della Juventus c'è una ipersensibilità, ci sono dei nervi scoperti che fanno venire fuori il peggio di ogni appassionato di calcio. Perciò immagino che la cosa che abbia più infastidito sia le due giornate di squalifica date al calciatore della Juventus per simulazione. È inutile parlarne perché voglio dire tutti abbiamo visto l'immagine, c'è Krasic in area di rigore che cade non essendo stato minimamente toccato dall'avversario. Questo dicono le immagini, poi naturalmente sopra ci si può ricamare, si può fare della filosofia se volete. Io l'ho visto questo episodio più volte e così stanno le cose. Ha preso due giorni di squalifica per questa simulazione, la Juve dice non è simulazione, rimane il fatto che hanno dato un rigore che è stato tirato, non hanno segnato perché Dio c'è ma oggi non più e è finita così. Cerchiamo di andare avanti, io so che citando questo episodio scatenerò, mi è successo in passato, le ire dei fans meno sobri della Juventus, però i fatti sono quelli. Un episodio che abbiamo visto non è simulazione. Benissimo, allora che cos'è? È un promo, è un prossimamente, voleva dimostrare Krasic che cosa sarebbe potuto succedere se l'avversario l'avesse toccato. Che è successo allora? A me è sembrato un signore che cascava senza un motivo vero, cascava di suo. Vogliamo smetterla di polemizzare su queste cose che non serve al niente e a nessuno. Facciamoci una bella risata su questo episodio. Non esageriamo con i decibel però perché magari se no Krasic casca. Una risata normale, un sorriso, via. Ecco, spero adesso aspetto le email che so che eccole, stanno già arrivando. L'altro episodio che dovrebbe far chiacchierare, non discutere, come spero succeda per l'episodio Krasic, riguarda un animale molto popolare che è scomparso recentemente, il polpo Paul, si chiama Paul, non Paul, non fate gli esotici, è tedesco, Paul, è un polpo di Oberhausen, a Oberhausen Paul si chiama Paul e non Paul, è morto Paul, è morto Paul, è morto questo animale al quale si erano affezionati, non si capisce neanche molto perché, perché se c'è un animale schifoso onestamente è il polpo. L'idea di toccarlo solo, beh, è più facile mangiarlo, noi riusciamo a mangiare l'ira di Dio senza pensarci, ma insomma non è gradevole da vedere, fa un po' impressione. Però la gente si era affezionata, si era affezionata e gli aveva attribuito dei meriti che Poverino non aveva, né gli importava niente di avere, avevano inventato che questo polpo era indovino e cioè, vi ricordate, durante i campionati del mondo il polpo in una vasca si andava a sistemare su dei contenitori con i nomi delle squadre, fermandosi su un contenitore si leggeva il nome della squadra e quella sarebbe stata la squadra che andava avanti, cioè che avrebbe vinto. Risultati su otto ha beccato il polpo Paul. Bene, grande popolarità, anche esagerazione, perché onestamente questi cinque chili di quel polpo sta a dieci euro al chilo. Adesso non voglio diventare un bieco, tra l'altro non mi piace neanche come piatto, ma affezionarsi a questo secondo piatto attribuendogli dei valori che non aveva mi ha fatto tenerezza e mi ha dimostrato come tutto possa succedere in questo mondo. Ci si affeziona agli esseri più abnormi e meno affascinanti per dei motivi che ci sfuggono, che non si capiscono. Addirittura ci si era incuriositi sulle origini di questo polpo, per cui qualcuno sosteneva che non era tedesco, veniva dall'isola d'Elba. Come si fa a capire la provenienza di un polpo? Me lo spiegherà qualcuno. Naturalmente ha avuto un grande riscontro, aveva le sue pagine su Facebook come anche i non polpi, come tanti. La gente si affeziona, c'è niente da fare. Qualcuno ha detto anche che Paul era intelligente. Come si fa a capire l'intelligenza di un secondo piatto? Non lo so. Noi siamo degli osservatori distratti e poco tecnici dei piatti di mare. Evidentemente. Ma insomma, il polpo visto così non è né accattivante né particolarmente simpatico. È qualcosa di vischioso e di viscido che se proprio si deve uno riesce anche a mangiarlo, ma guardarlo proprio a me faceva una certa impressione. Comunque, è morto dopo tre anni, quindi ha un'età che per i polpi è enorme e pace all'anima sua, è morto contornato invece che dalle patate dell'esse dalla riconoscenza di tutti. Terzo episodio, quello un po' più tosto. Lo facciamo in fretta perché non vorrei lasciarvi un po' di amaro, ma la notizia è tragica. Tarek Aziz, l'ex ministro degli esteri dell'Iraq di Saddam Hussein, è stato condannato a morte. Era fatale dal momento che era stato condannato e la condanna era stata eseguita anche Saddam Hussein. Tarek Aziz ha condiviso tutte le iniziative, anche le più ferali del dittatore iracheno. Se il dittatore è stato decapitato, praticamente, si vedeva come si sarebbe potuto salvare. Ma una cosa strana, io sono assolutamente contrario, l'ho sempre detto e continuerò a dirlo, alla pena di morte. È giusto protestare assolutamente contro, siamo tutti contro le persone civili dell'Occidente. Però, insomma, voglio dire che il destino accomuni un dittatore con il suo vice è abbastanza prevenibile. La cosa che mi fa orrore è che gli interventi che ci sono stati per salvare la vita a Tarek Aziz, per impedire la sua esecuzione capitale, secondo me sono stati fatti non perché non si uccide un essere umano, ma sono stati fatti perché Tarek Aziz non è musulmano, non è islamico, ma è un cristiano caldeo. Credo che sia per questo. Brutta cosa. Brutta, brutta. A domani, ciao.